Ciao a tutti, oggi vi suggerisco la torta salata con patate, peperoni e mozzarella. Vediamo come preparare. Per prima cosa tagliate a cubetti le patate, mettiamo l'olio extravergine nella padella, la cipolla, le patate e i peperoni. Aggiustiamo di sale, mettiamo un po' di pepe nero e mescolate. Abbassate la temperatura, aggiungiamo un po' di paprika affumicata e facciamo cuocere per circa 15 minuti. Adesso adagiate nella teglia la pasta sfoglia, create dei buchi e farcite con il condimento. Aggiungete la mozzarella o altrimenti della scamorza affumicata, che viene buonissima, e quindi coprite con il secondo strato di pasta sfoglia. Adesso sigillate i bordi con la punta delle dita e quindi dopo prendete una forchetta e create dei buchi in superficie. Dopo aver fatto quest'operazione, spalmate tutta la superficie con l'uovo sbattuto. Facoltativo, se volete potete utilizzare anche il latte. Poi mettiamo i semi di papavero, se volete potete mettere anche i semi di sesamo. Trasferite nel forno e lasciate in cottura a 200 gradi per circa 30 minuti. Come potete vedere questo è il risultato finale, una vera bontà.